si rende la motosegna e te l'hai dietro? no, un po' di giro ce l'ha messo guardando, mi devo girare così io e io venuti poi la rosetta ci ha preso quel cartello 362 nord sulla sorpata che ci segnalava se loro stanno a scendere la rosetta se loro stanno a scendere la rosetta secondo me ne fermati in attimo a segnalare la stessa che non arriva non posso, non ripartire la cosa ci hanno fatto un po' di operato va bene il cartello era il restringimento il 350 sulla sorpata perfetto, ti ringrazio io a passaggio il rendimento non so che ci sono fatto non so che ci sono non so che ci sono